Dunque buongiorno a tutti e a tutti e grazie di essere qui di sabato mattina e l'abbiamo abbiamo fatto questo incontro di sabato mattina proprio per avere la possibilità di avere il più possibile la vostra partecipazione perché è molto importante per appunto l'attivazione della parte territoriale della campagna aborto è molto importante anche un confronto direttamente con le responsabili di campagna che sono qui e che ci spiegheranno quali sono le azioni da mettere in campo poi per riuscire ad attivarci nei vari comuni e soprattutto nelle varie regioni e senza ulteriori induggi lascio la parola intanto a Mirella Paraghini che ci fa un po' una panoramica generale Grazie Giada spero che non ci saranno troppi problemi tecnici cerco adesso di come si dice attivare lo schermo mio il che non è assolutamente ovvio eccoci qua e questo qua allora mi date pazienza cerco di allargare lo schermo sai che c'è Giada che la barra dei comandi mi nasconde la presentazione dello schermo intero capito abbiate pazienza visualizza vai su visualizza tutto a destra ma visualizza non è coperto dalla barra di stato della nostra della nostra riunione capito se la finestra di powerpoint la togli da schermo intero torna più piccola la puoi spostare al di sotto della barra con l'iconcina che c'è in alto a sinistra hai ragione hai ragione grazie Carlo ma visualizza però perché non me lo dà scusate eccoci guardi se posso permettermi lei in basso dove sta adesso con il mouse non mi vedo ma va bene così allora intanto buongiorno e grazie davvero di esserci io cercherò di essere abbastanza rapida nel senso che ho paura di dire delle cose che già sapete e quindi credo che sarà più utile poi sulla base della traccia che sia io che anna faremo aprire a voi ai vostri interventi alle vostre domande la riunione dunque quello che vorrei cui vorrei riallacciarmi è la continuità della storia della della coscioni sull'aborto e contraccezione questo era il web che abbiamo tenuto l'anno scorso a gennaio in cui si spiegava in che modo la questione aborto e contraccezione o più semplicemente la questione diritti della salute riproduttiva alla salute riproduttiva fa parte della 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 delle battaglie della coscioni per questo mi riferimi mi rapporto all'agenda 2030 delle nazioni unite che come sapete inserisce la salute sessuale i diritti riproduttivi come essenziali per la salute queste cose le sappiamo però penso che sia utile inserire questo argomento all'interno di questi obiettivi e in particolare dell'obiettivo cinque che è l'uguaglianza di genere l'uguaglianza di genere prevede che tra le altre cose la salute l'accesso alla salute sessuale riproduttiva che risale a variate riunioni e conferenze internazionali garantisca appunto venga garantita quindi l'italia ha sottoscritto queste queste convenzioni internazionali e quindi la coscioni per questo motivo si batte per la piena applicazione della 194 che significa la possibilità di scelta della metodica e qui veniamo direttamente ad uno dei punti che ci sta a cuore e ho voluto sottolineare in grassetto la questione obiezione di coscienza perché la narrazione come si dice al giorno d'oggi con una parola che non mi piace molto è che l'accesso in italia all'applicazione corretta della 194 dipende essenzialmente dall'elevato numero degli obiettivi di coscienza ora noi ripetiamo da anni che certamente esiste questa causa della legge poi possiamo discutere se è giusto che una legge la preveda o meno ma se leggiamo pienamente l'articolo 9 della legge vediamo che la legge sottolinea che la struttura a cui la donna si rivolge tenuta in ogni caso questa è la citazione letterale dell'articolo 9 è tenuta in ogni caso a garantire l'espletamento della procedura quindi non ci potrebbe essere un ospedale che dice no noi qui non lo facciamo possono dire noi qui non lo facciamo ma io ti garantisco l'espletamento della procedura attraverso un percorso che ti indico e attraverso dei servizi di riferimento che dovrebbero essere garantiti da tutte le asle quindi dalle regioni da cui dipendono le asle come sappiamo mi ricollego alla mozione del dell'ultimo congresso di quello che si è tenuto a milano ad ottobre scorso il ventesimo congresso in cui si riassumono i filoni da seguire per quanto riguarda la campagna della coscioni una è la campagna mai dati di cui non parlerò in questa mia presentazione perché vorrei concentrarmi su invece una questione che da tanto tempo stiamo perseguendo che riguarda la piena applicazione della legge in particolare riguardo a due elementi l'appropriatezza delle prestazioni quindi essenzialmente il regime in cui la prestazione viene eseguita e seguita e la procedura farmacologica perché la procedura farmacologica voglio tornare indietro per sottolineare anche la nostra campagna per la contraccezione gratuita anche questo potrebbe potremmo più in là capire l'importanza di un coinvolgimento a livello territoriale su questa parte qui della mozione ma vi dicevo perché l'aborto farmacologico perché se non ci riferiamo alle linee guida le guidelines quindi è un concetto molto chiaro e molto delineato sull'aborto e le ultime sono state fatte dall'organizzazione mondiale della sanità nel marzo 2022 sono chiarissime e definiscono l'aborto come un intervento che deve essere sicuro efficace e non complex health care quindi non deve essere complicato quindi dovrebbe essere trattato alla stregua di una questione di salute health care piuttosto che come una questione di reato che non è tale se viene eseguito come delineato dalla legge quindi questa questione adesso non facciamo riferimenti a anatemi papali di recente e non recente peraltro storia però questo credo che sia un concetto fondamentale che è il motivo per cui io mi sento a mio agio quando parlo di aborto perché ne parlo come di una questione di salute e quindi tra le linee guida c'è esplicitamente specificato che prima si fa l'interruzione volontaria di gravidanza IVG quando lo vedete la sigla sapete che cosa vuol dire quanto più precocemente si fa quanto più la procedura è sicura e questo riguarda da vicino la procedura farmacologica perché la procedura chirurgica implica un periodo di attesa normalmente sei sette settimane nel senso che se si fa troppo precocemente il rischio di un aborto incompleto è maggiore in particolare poi l'aborto farmacologico viene ritenuto e definito sempre dall'organizzazione mondiale della sanità come un facilitante intervento di assistenza primaria per l'accesso all'aborto quindi sottolineano che dovrebbe essere fornito come regime ambulatoriale e come farmacologico in particolare questa cosa è condivisa non è solo una scelta politica della dell'oms ma è condivisa per esempio dalla federazione internazionale la figo dei ginecologi e degli operatori che parlano di aborto medico farmacologico come lo chiamiamo in in italia come una rivoluzione poiché mette nelle mani della donna la possibilità di accedere ad una modalità self all'aborto sicuro anche il royal college degli ostetrici e ginecologi inglesi che sono un faro un punto di riferimento a livello internazionale non solo parlano di aborto medico e lo estendono fino a 12 settimane ma ne parlano come di una procedura eseguibile at home anche gli americani e quindi l'associazione dei ginecologi e ostetrici americani già nel 2020 parlano della possibilità di ricorrere all'aborto farmacologico addirittura fino a 70 giorni mi ricordo che in italia noi siamo fino a 63 giorni quindi da 9 settimane gli americani estendono la possibilità di seguire questa procedura fino a 10 settimane qual è la rivoluzione di cui parla la figo che fino al 2009 quando è stato introdotto il metodo farmacologico in italia io vi ricordo che il metodo farmacologico risale al 1988 quindi ci sono venute volute delle battaglie di cui il partito radicale è stato e anche la roccella all'epoca è stata protagonista non esisteva non esisteva l'aborto farmacologico quando fu approvata la legge ma con una grande così previsione che mi ha sempre stupito vi devo dire la 194 prevede che le regioni ecco che spostiamo l'attenzione sulla sulla come dire iniziative territoriali devono insieme alle università gli enti ospedalieri aggiornare il personale sanitario sull'uso delle tecniche più moderne più rispettose dell'integrità fisica e psichica e quindi esattamente sul in questo caso sul metodo farmacologico questa è una citazione che ci tengo a fare perché voi sappiate con chi state parlando non con me ma con compili che ha collaborato all'estensione delle ultimissime perché sono di un anno fa indicazioni operative sull'interruzione farmacologica in italia a cura della dell'istituto superiore di sanità quindi un documento davvero essenziale per gli operatori in questo campo un'altra cosa che molto rapidamente l'ho preso da wikipedia quindi non sono stata a prendere le relazioni annuali più o meno annuali di tutti i paesi però credo che sia molto significativo ricordarci la percentuale degli aborti farmacologici nei vari paesi in svezia siamo al 96 per cento quindi se lo paragoniamo a valori italiani e di certe realtà dove non si fanno per niente credo che sia un dato che davvero ci aiuta a riflettere rapidamente in che modo questo si riflette poi sulla iniziativa che abbiamo preso sul fatto dell'appropriatezza questo è il documento che trovate sul sul sito del ministero della salute e che risale al 2012 che è un manuale di formazione proprio sulla appropriatezza e che cosa ci dice sono inappropriati i casi di ricovero ordinario o di dei hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con meno impiego di risorse io credo che questo già potrebbe chiudere il discorso e farci dire andiamo direttamente alla corte dei conti e chiediamo che le regioni che non rispettano questa criterio di appropriatezza vengano in qualche modo perseguite non siamo noi a dirlo qui c'è un decreto del 2000 decreto del consiglio dei ministri del 2001 che dice che le ospedalizzazioni inappropriati sono un ingestificato pericolo 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 per la salute un inutile spreco di risorse e un ostacolo all'accesso dell'interruzione di gravidanza questo lo dico io naturalmente l'anno scorso il ministro della salute ha detto questo ci deve far riflettere perché è in questo contesto che ci stiamo muovendo non è una cosa solo che riguarda soltanto eh eh l'interruzione volontaria di gravidanza nel duemila e ventidue ricoveri impropri sono stati un milione e trecentomila e quindi è un gravame per il servizio sanitario che consuma risorse togliendole ad altre opportunità di investimento e in primis schillaci eh eh evoca e cita l'assistenza territoriale quindi stiamo appieno nelle loro corde tant'è vero che abbiamo scritto al ministro della salute anche ai presidenti dei consigli regionali agli assessori della sanità alle commissioni sanità della regione e alle compo ai e ai componenti della conferenza stato regione questa lettera è del maggio duemila e ventiquattro è l'iniziativa ennesima che abbiamo fatto in occasione dell'anniversario dell'approvazione della cento novanta quattro nel nostro paese che è il ventidue maggio nel milenovecentosettantotto quindi quarantasei anni fa che cosa chiediamo chiediamo la piena eh applicazione della legge quindi un dovere di vigilanza e assicurare l'appropriatezza delle procedure quindi se ci rifacciamo all'organizzazione mondiale della sanità ma a tutte le altre agenzie e società scientifiche aborto farmacologico anche per l'aborto spontaneo guardate che questa è una cosa molto importante perché l'aborto spontaneo fino a poco tempo fa ma ancora oggi in moltissime realtà e reparti di ossetricia e ginecologia vengono trattati con l'intervento chirurgico e il non applicare la procedura farmacologica anche in caso di aborto spontaneo rientra a pieno titolo in una inappropriatezza della procedura questo è uno delle tappe che in passato erano già state perseguite siamo nel 2017 amica di cui siamo cofondatrici sia Anna Pompili che io con la Coscioni e con l'AIEB avevamo ehm rilanciato una petizione alla allora ministra della salute Beatrice Lorenzin eh già prevedendo eh già già mi viene da ridere eh la possibilità di usufruire del regime ambulatoriale i primi fermatari eh mi piace ricordare che erano Emma Bonino, Carlo Flamini, Ivan Cavicchi e Maurizio Mori. Queste sono eh probabilmente conoscete questa questo link eh tutto quello che fa la Coscioni a proposito di eh avorto e contraccettione. mi pare di capire che eh mi posso fermare qui e forse eh prima di cedere il microfono a eh Anna eh chiederei a Giada di eh condividere con voi il form che vi è stato inviato perché forse alla luce di questo percorso eh di questa presentazione eh potete eh capire meglio che cosa vi stiamo chiedendo. Grazie. Sì datemi un attimo che non ero preparata. Pensavo. Oppure lo puoi fare alla fine. Giusto un attimo. naturalmente se avete domande eh io le raccoglierei alla insomma dopo la presentazione di Anna. Ok Anna quindi condividi prima tu? Stavo per far vedere il form. Però volando. Ah scusa pensavo che lo mettessi come il link. Non avevo capito che lo condividevi. Ma si può fare alla fine Giada? Che dici? Non lo so eh? Sì 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 sì. Vai Anna. Va bene. Allora buongiorno ehm benvenuti. Io sono molto contenta di questo incontro che ci serve oltre che per fare il punto della situazione anche eh in qualche maniera per eh dare una prospettiva e eh eh di lavoro prima e soprattutto nel dopo nel dopo congresso ehm proprio a livello territoriale eh eh e lo vorrei fare vorrei fare questa questa mia presentazione iniziando dalla realtà di oggi che è quella di una politica antiabortista un po' particolare nel senso che eh si basa sul tenersi al testo della legge per imporne una lettura restrittiva. Voi sapete bene che Meloni ha detto più volte la legge centonovantaquattro non si tocca e subito dopo si approva l'emendamento all'articolo quarantaquattro del PNRR ne abbiamo già parlato all'incontro con le cellule un articolo che eh non solo impone una lettura restrittiva la forza il testo della legge che che parla di consultori che possono eh diciamo eh avviare una collaborazione con organizzazioni del terzo settore quindi eh conoscendo bene la realtà territoriale proprio sulla base di quella realtà territoriale le convenzioni possono essere fatte dai consultori esposta invece al livello delle regioni quindi prescindendo dalle realtà territoriali per imporre invece una visione che è tutta ed esclusivamente ideologica. Ehm Mirella ha parlato di applicazione della legge centonovantaquattro non vi sto a dire eh non sto ad aggiungere nulla a quello che le ha detto rispetto alla parziale applicazione dell'articolo nove perché i primi commi vengono tutti applicati alla lettera eh tutti sanno benissimo tutti gli operatori sanitari e qui parlo non solo quindi dei ginecologi ma parlo anche degli anestesisti parlo degli infermieri parlo delle ostetriche tutti gli operatori sanitari sanno che hanno il diritto di sollevare obiezione di coscienza nessuno però sta o nessuno ricorda che eh questo diritto a sollevare obiezione di coscienza è fatto anche di doveri e quei doveri invece vengono sempre eh puntualmente rimossi per esempio il dovere della struttura laddove vi sia un cento per cento di obiezione di assicurare comunque un percorso IVG alle donne. L'altro articolo che è pesantemente eh non applicato è l'articolo 15 come dicevamo l'articolo 15 si basa su due concetti il dovere dello Stato, delle regioni, delle università, degli ospedali e delle asla di garantire l'accesso eh alle tecniche più moderne per la contraccezione e l'aborto e il dovere di formazione e aggiornamento del personale sanitario. Ehm eh eccolo qui. Allora se noi andiamo a vedere eh come viene violato questo dovere di eh assicurare le tecniche più aggiornate per quanto riguarda la procedura chirurgica noi sappiamo che in tante regioni d'Italia si fanno ancora troppi raschiamenti si fanno ancora poche anestesie locali molto spesso le donne non hanno possibilità di scegliere della tecnica anestesiologica e per quanto riguarda la procedura farmacologica sappiamo che in molte aree del nostro paese non le macro aree per legarmi alla ricerca ma i dati non le macro aree riportate nella relazione del ministro ma le micro aree e le singole strutture l'accesso a questa metodica è ancora fortemente ostacolato. Faccio vedere questo schema non è che dovete leggere tutto è il report della regione Lazio sull'applicazione della legge centonovantaquattro sulle IVG fatte nei vari istituti. Perché ve lo faccio vedere? Perché l'articolo 15 parla espressamente di università e allora vi ho sottolineato solo il dato del policlinico universitario della Sapenza, il policlinico Umberto I che è il più grosso policlinico universitario d'Europa. Vi faccio vedere che nell'8,2% tra tutte le procedure farmacologiche l'8,2% sono ancora raschiamenti. Lì gli specializzanti dovrebbero imparare la tecnica più moderna e nell'8% dei casi si fanno ancora raschiamenti e che la procedura farmacologica viene fatta nel solo 17,6%, cioè meno della metà di quella che nel 2021 era la percentuale a livello nazionale. È una metodica, vedete qui raschiamento e di sterosuzione sono a confronto, vedete come i raschiamenti in alcune regioni abbiano ancora percentuali molto elevate, 24,9% in Sardegna e molto spesso va tenuto presente che questi dati riportati nella relazione del ministro sono sottostimati perché fino a quell'epoca, fino al 2021, il dato del raschiamento non veniva riportato qualora era un, lo definisce l'Istat, piccolo raschiamento di sicurezza dopo l'isterosuzione, ma è una procedura gravata da una maggiore incidenza di complicazioni, complicazioni sia immediate ma soprattutto a distanza. E il problema è che molto spesso non è una cattiva volontà dei medici, ma è dovuta al fatto che le amministrazioni degli ospedali e delle ASL non acquistano il materiale per le isterosuzioni che è un materiale monouso. Quindi la procedura farmacologica per l'interruzione di gravidanza e anche per l'aborto spontaneo, per il trattamento dell'aborto spontaneo, è un percorso ad ostacoli. È un progresso negato, un progresso negato. Vi spiego, io credo che sia importante che abbiamo tutti bene chiare alcuni elementi di base. Sicuramente sapete, ma lo ripeto, cos'è la procedura farmacologica. È una procedura che consiste nella somministrazione di due farmaci che sono il mifeprestone, meglio noto come RU486, e il misoprostolo, che è una prostaglandina, a distanza di 48 ore l'una dall'altra. Entrambi i farmaci sono registrati come fornitura ospedaliera, anche se questo non richiede necessariamente una servivisione medica per il loro utilizzo, ma vieta che possano essere acquistati in farmacia. Poiché la legge dispone che la procedura per l'aborto in generale sia iniziata in una delle strutture che sono elencate nell'articolo 8 della legge, il mifepristone, il primo farmaco, deve sempre essere somministrato in una di queste strutture. Quindi, qui non prendiamoci in giro, in questa fase non è applicabile la telemedicina. Dobbiamo cambiare la legge per applicare la telemedicina in questa fase. E poi va tenuto presente invece che la somministrazione del secondo farmaco può avvenire fondamentalmente con tre modalità. Può avvenire in ospedale nel secondo accesso di un ricovero di dei hospital, ormai trascuro i ricoveri ordinari che dovrebbero essere stati cancellati, dall'aggiornamento ministeriale del 2020. Può avvenire in ambulatorio o in consultorio, ossia la donna prende il primo farmaco in ambulatorio o in consultorio, torna dopo 48 ore per prendere il secondo farmaco e generalmente viene, posso usare un termine gentile, trattenuta nell'ambulatorio nel consultorio per un periodo di osservazione che è generalmente di qualche ora. Oppure la donna può assumere, autosomministrarsi il farmaco che le è stato consegnato il giorno prima in ambulatorio o consultorio e il follow up può essere fatto in telemedicina. L'importante è che siano chiari anche i costi di queste procedure. La procedura chirurgica in dei hospital ha un rimborso della regione all'azienda sanitaria o all'azienda ospedaliera di 1099 euro. Costa 1099 euro al sistema sanitario regionale e nazionale quindi. La IVG farmacologica con il ricovero in dei hospital che prevede almeno due accessi con ricovero di qualche ora per il secondo farmaco prevede un costo di 230 euro ad accesso quindi un costo minimo di 460 euro. La procedura ambulatoriale prevede uno o più accessi ma la regione rimborsa il costo dei farmaci che è di 36,15 euro a farmaco ossia un totale di 72,30 euro. Quindi vedete intanto per riallacciarmi a quello che diceva Mirella sulla appropriatezza come in termini di costi senza dubbio laddove non vi siano controindicazioni una procedura farmacologica ambulatoriale sia unica appropriata e che le altre siano invece che gli altri siano setting assistenziali non appropriati. E allora c'è una ostilità perché sarebbe una convenienza per tutti i sistemi sanitari regionali quello di aprire al massimo alla territorializzazione, alla deospitalizzazione. I dubbi e diciamo gli ostacoli che vengono avanzati a livello regionale sono fondamentalmente il fatto che si dice che c'è un problema di sicurezza per le donne perché la procedura è pericolosa e quindi richiede un controllo, una supervisione medica. Poi vengono posti come ostacoli dei problemi organizzativi quindi si lamenta che non si ha la disponibilità di spazi adeguati per tenere le donne sotto osservazione dopo la somministrazione del secondo farmaco. E poi non ultimo la diffidenza, scusatemi, verso le donne e verso la possibilità di autogestione di una procedura medica. Allora vorrei chiarire due cose intanto sulla sicurezza dei farmaci. l'avete visto tutta questa schifetta che è stata sui muri dei palazzi di tutte le nostre città e verso la quale il ministero non ha alzato una voce perché questo è un falso. L'RU 486 non mette in rischio la salute e la vita delle donne e vabbè e lasciamo perdere il secondo punto. Allora vi faccio vedere questo che è un documento dell'ACOG che è l'associazione dei ginecologi ostetrici americani sottoscritto da altre cento associazioni di medici americani in risposta alla richiesta di eliminare la commercializzazione negli Stati Uniti dell'RU 486 perché questa associazione per la medicina ipocratica sosteneva contro l'FDA, la Food and Drug Administration, sosteneva la pericolosità del RU 486. Questa è la risposta dell'ACOG che ci dice che il nifepristone, l'RU 486 è eccezionalmente sicura, che gli eventi avversi sono estremamente rari, che il rischio di morte è praticamente inesistente, cioè un rate di 0,00027% e alla fine ci dice che il profilo di sicurezza dell'RU 486 è comparabile a quello dell'Ibuprofene, che è un farmaco venduto da banco, come prodotto da a banco praticamente in tutto il mondo. Analogamente il misoprostolo, qui si dice che fondamentalmente gli effetti del misoprostolo, gli effetti negativi sono di solito effetti collaterali di natura cardiovascolare, soprattutto nausea, vomito e diarrea. Queste osservazioni hanno portato, lo citava, l'aveva fatto vedere Mirella prima, hanno portato l'OMS che aveva già inserito nel 2005 i farmaci per l'aborto farmacologico mifepristone e misoprostolo nella lista dei farmaci essenziali, ha portato a togliere la clausola che diceva devono essere utilizzati sotto supervisione medica e quindi ha inserito il mifepristone e misoprostolo nella lista core dei farmaci essenziali, cioè quelli che non richiedono una stretta supervisione medica per il loro uso sicuro ed efficace. Non serve che ci sia il medico può essere utilizzato da solo. Nel 2019 stesso il Royal College afferma la sicurezza dell'uso di questi farmaci in ambiente extra ospedaliero ma calcando molto la mano perché ci dice non c'è alcun motivo medico per il quale i farmaci debbano essere presi in ambiente ospedaliero. Più chiaro di così penso che non sia possibile. Poi c'è l'altro problema, cioè il problema della diffidenza verso le procedure autogestite e diciamo i problemi organizzativi che vengono posti dalle regioni. La diffidenza verso le procedure autogestite è un elemento estremamente importante ed è una delle ostilità in generale verso una procedura che ha comunque la donna al suo centro. Quindi fondamentalmente laddove viene praticato l'aborto farmacologico molto spesso lo si fa forzando una modalità assistenziale di tipo ospedaliero ad una procedura che invece è squintitamente ambulatoriale. Le regioni ci dicono che abbiamo difficoltà a reperire ambienti adeguati perché la gran parte dei protocolli regionali prevede che nel regime ambulatoriale la donna sia costretta a tornare in ambulatorio o in consultorio per prendere il secondo farmaco e sia poi tenuta in osservazione per qualche ora, ignorando l'esperienza che era già stata degli altri paesi che avevano caldeggiato la procedura etom, l'autosomministrazione a domicilio, proprio per evitare che le donne invece sanguinassero nel ritorno a casa. E quindi è proprio in questa ottica ingiustificatamente restrittiva che le regioni lamentano di non avere ambienti adeguati per il controllo post procedura. Nel follow up laddove facciamo l'autosomministrazione molto spesso o anche nel ricovero in day hospital invece utilizziamo nel follow up la telemedicina perché molto spesso facciamo un dosaggio delle beta hcg che vengono comunicate per email e quindi si fa un controllo clinico o strumentale solamente alle donne che abbiano o livelli di beta hcg non rassicuranti o sintomi non rassicuranti. Fatto questa premessa per chiarire un pochino le cose pratiche allora torno a quello che diceva Mirella cioè lo stesso ministero ma nel 2001 e poi ribadito nel 2012 ci dice che sono inappropriati i casi di ricovero ordinario o di ricovero in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare con diverso setting assistenziale premesso che ovviamente il beneficio per il paziente sia lo stesso e vi sia un minore impiego di risorse. Quindi i concetti di efficacia e sicurezza mi pare che siano chiari dalle premesse che ho fatto. Il discorso dei costi è chiarissimo perché parliamo di una differenza di 72 euro contro 460 contro 1099 del chirurgico ma soprattutto è una procedura un setting assistente insistenziale richiesto a gran voce dalle donne quindi è veramente inaccettabile che ad oggi sia solo il Lazio che ha fatto un protocollo operativo per l'IVG farmacologica in regime ambulatoriale con autosomministrazione del misoprostolo domicilio. Questo è quello che è quello che noi abbiamo chiesto quindi la lettera che vi ha fatto che vi ha fatto vedere Mirella che fa vedere come l'ostilità alla procedura farmacologica sia veramente importante dal 1983 al 2021 vedete che dall'83 al 2000 sono state fatte procedure chirurgiche in regime ambulatoriale e che solo nel 2021 si è ripesa la procedura ambulatoriale ma come vedete il 4,3 per cento delle IVG sono state effettuate in ambiente in ambulatorio cioè l'ambiente ospedaliero l'ambulatorio ospedaliero e solo lo 0,1 in consultorio familiare sempre con quella modalità di cui vi parlavo allora quali sono le nostre richieste come pensiamo che dovrebbe essere una organizzazione appropriata dei servizi VG che possa anche in qualche maniera non dico eliminare ma comunque tendere a ridurre le grosse differenze territoriali che la ricerca mai dati ha anche in parte evidenziato. La cosa importante è che la gran parte delle procedure dovrebbero essere deospedalizzate. Ricordiamoci che l'aveva fatto vedere Mirella ma io lo voglio sottolineare la ospedalizzazione non solo comporta un costo maggiore ma comporta un pericolo per la salute perché le infezioni ospedaliere sono un pericolo reale e non è assolutamente giustificato far stare le persone in ambiente ospedaliero comunque in un ambiente sanitario promiscuo laddove non ci sia una indicazione. Quindi la nostra richiesta è deospedalizzare, territorializzare la gran parte delle procedure che sia nei polimbulatori che sia nei consultori prevedendo la possibilità, offrendo la possibilità perché questo non esiste, di autosomministrazione a domicilio del misoprostolo. E secondo invece la concentrazione delle procedure complesse che sono le IVG chirurgiche, le IVG del secondo trimestre, le IVG che si fanno quando vi sia una coesistenza di condizioni mediche particolari in strutture specializzate. Non sono tutti gli ospedali che devono fare le interruzioni di gravidanza perché invece le donne hanno diritto a standard aggiornati di trattamento e questo può essere fatto solo non in tutte le strutture ma in strutture specializzate. Lì si eviterà il ricorso a metodiche obsolete e potenzialmente rischiose come vi facevo vedere prima per esempio per quanto riguarda i raschiamenti. La letta è sicuramente uno strumento per sostenere le nostre richieste. C'è una grossissima letteratura internazionale che sostiene la sicurezza sia della procedura sia della procedura in ambiente extra ospedaliero. Allora che cosa diciamo quali sono come caliamo tutte queste cose nella pratica della iniziativa territoriale? Intanto io credo che potrebbe essere utile individuare una regione simbolo per questa nostra iniziativa che viene lanciata a livello nazionale ma che ha caratteristica assolutamente territoriale. Una regione simbolo per esempio dove vi è una difficoltà di accesso all'aborto farmacologico o comunque una limitazione per fare un evento post congressuale su questo tema. Le cellule dovrebbero farsi promotrici di iniziative verso i consigli regionali per esempio mozioni presentare al consiglio eventualmente sostenute da iniziative tra le persone nella società civile per esempio raccolte di firme dovrebbero rendere pubbliche le iniziative per l'appropriatezza delle VG e chiedere il sostegno appunto e l'impegno della società civile lavorando secondo me è importante che si crei una rete di associazioni a livello territoriale che sostengano l'iniziativa. Noi abbiamo iniziato diciamo a livello nazionale a un lavoro comune con i sindacati in particolare con la CGL e con la UIL quindi ci vediamo al congresso ma io credo che al congresso potremmo pensare anche magari all'ora di pranzo ma un incontro breve per definire e coordinare le iniziative e quindi è importante per noi che sia compilato il form che vi è stato inviato e credo che potrebbe essere utile anche individuare un referente delle cellule per ogni regione in modo da mantenere anche contatti e stimolare le iniziative e coordinarci tra tutti noi. Grazie. Grazie Anna, sei stata chiarissima. Sul finale avevo qualche domanda io ma poi hai sciolto ogni dubbio però se ci sono domande alzate la mano e vi do la parola. Nel frattempo intento di condividervi il form di cui parlava Anna nel finale che è quello che vi è stato inviato e capisco che tra le tante cose la comunicazione può essersi persa però insomma magari vi ho girato di nuovo la mail stamattina, è importante confilarlo. domande Sara Martelli Ciao a tutte e tutti, grazie Anna, grazie Mirella, grazie Giada, grazie a tutti intervengo per chiedere due cose. La prima se cioè come pensiamo di procedere per la definizione di chi fa referente regionale diciamo così e poi se creiamo una chat dedicata soltanto per questo che potrebbe essere utile per chi è un po' sovrapparico diciamo. Fine delle domande. Ovviamente io ci sono. Rispondo solo sulla seconda parte ovvero chat dedicata. Potremmo fare come abbiamo fatto per la questione salute nelle carceri e cioè le persone che poi verranno designate un po' per portare avanti l'iniziativa possiamo mettere all'interno di una mailing list e quindi poi ci inviamo delle insomma ci teniamo in contatto tramite questo giro di mail e non so se sulla questione come si individua il rappresentante regionale Anna o Mirella hanno delle idee. Ma io personalmente credo che all'interno di ciascuna cellula poi sulla base degli interessi delle sensibilità eccetera ciascuna cellula possa individuare senza criteri diciamo generali ma valutando nel particolare chi può essere il referente insomma non credo che ci debbano essere. No no scusa Anna forse non mi sono spiegata io i referenti di ogni cellula e dei referenti chiaramente ci mancherebbe. No mi riferivo ai regionali nel senso che magari le cellule all'interno della stessa regione non hanno già delle procedure un po' di contatto di stare insieme quindi potrebbe aver senso offrire uno strumento era solo questo che dicevo per dire in Lombardia in Lazio in alcune regioni non c'è bisogno di fare questa cosa qua no anzi paradossalmente noi senza lo facciamo già cioè sappiamo già chi è referente regionale per ognuno dei temi perché ce li siamo decisi alle ultime riunioni però magari le altre regioni no e mi chiedevo se non potessimo proporre non non imporre ma proporre una modalità perché è utile c'è qualsiasi campagna l'ho fatta io e è utile avere un referente regionale o una referente di solito sono temine. Non so se posso passare davanti molto brutalmente a Nino e a Paola ma è solo perché mi ricollego proprio a questa domanda perché avrei dovuto parlarvene prima e cioè abbiamo fatto una riunione voi sapete che esiste un intergruppo parlamentare che ha fatto diverse iniziative nell'ultima riunione si è chiesto che è stata allargata alle consigliere regionali e a rappresentanze sindacali si è chiesto esplicitamente di fare un elenco delle persone che potrebbero diventare dei riferimenti quindi avremo però dei link a referenti sono soprattutto donne del PD vi devo dire ma non solo e quindi questo monitoraggio nelle varie regioni credo sarà prezioso per avere dei punti di riferimento mi scuso ancora con Nino grazie Mirella grazie Anna ci pensiamo comunque su come designare un po' una persona che faccia da portavoce delle cellule all'interno di una regione e faccia un po' da raccordo quindi su questo ci aggiorniamo prestissimo non so se aspettate c'è Nino e poi c'è Sara che non ho capito Sara se non devi più intervenire puoi abbassare la mano non so se è quella di prima intanto Nino sì era quella di prima l'ho abbassata adesso l'ho rialzata poi l'ho riabbassata comunque lo avevo finito no volevo già che ci sono in passato ci sono stati pasticci su questo quindi è proprio ci tengo è importante che troviamo una modalità che sia un po' così un consiglio comune vai Nino Nino Sisto sì io vorrei fare una domanda perché in tante riunioni a cui partecipo sull'IVG sento ripetere spesso una frase che per me è incomprensibile cioè se è una struttura anche il 100% di medici sono obiettori la struttura deve garantire il servizio in pratica che significa se non c'è nessun medico non l'obiettore come fa a garantire il servizio posso rispondere poi magari Anna aggiungi qualcosa non deve garantire il servizio deve garantire l'espletamento della procedura allora se tu fai un paragone per esempio con una qualunque altra branca della ginecologia per esempio non tutti gli ospedali fanno si occupano di oncologia ginecologica quindi quando un paziente alla quale viene diagnosticato per esempio la necessità di un trattamento per una patologia oncologica viene automaticamente indiata con un percorso più o meno definito esistono dei percorsi tra l'altro territorio ospedale che sono molto importanti quindi credo che rimettere l'aborto su quel binario di salute di questione di salute perché deve avere uno statuto speciale l'aborto per cui viene fatto dappertutto viene fatto in posi e qui sottolineo quello che ha detto Anna e che è molto importante quando noi parliamo di procedura farmacologica non è che escludiamo l'intervento ospedaliero ma questo dovrebbe essere riservato o ai casi in cui la donna non può gestire il procedimento a casa questo bisogna sempre ricordarlo c'era nella diapositiva del Royal College inglese deve essere garantito un supporto se a domicilio perché ci sono persone anziane o per la privacy o dei bambini piccoli la donna deve poter fare anche la procedura farmacologica in ospedale noi abbiamo corretto dei testi che rivendicavano l'aborto farmacologico per tutte no, per tutte, per quelle che lo vogliono fare e che non hanno controindicazioni a farle quindi io credo che è giusta la tua domanda ma se tu pensi a un qualunque altro atto medico se hai bisogno di un specifico intervento vai laddove è possibile farlo quindi la struttura in pratica ti deve solo indicare qual è l'altra struttura dove ti puoi recare dove puoi ottenere quel servizio e ti deve indicare in molti casi fattivamente perché se c'è un problema particolare per esempio di tempistica e Anna ne sa qualcosa perché ha raccolto a Roma nell'ospedale dove lavora una quantità di last minute casistiche insomma certamente deve essere un percorso facilitato insomma quindi non ti chiudo la porta in faccia considerate che chiudere la porta in faccia in molte strutture qui noi parliamo dell'aborto del primo trimestre però considerate anche gli aborti del secondo trimestre quelli per esempio che la donna richiede dopo una diagnosi di patologia fetale allora c'hai l'ospedale confessionale che però fa le amniocentesi, le villocentesi, le ecografie del secondo trimestre quindi tutte le procedure di diagnostica prenatale ma quando c'è una diagnosi di patologia fetale dice ah beh no qui noi siamo tutti obiettori a rivederci e tante care cose beh non si deve fare così se la donna chiede di interrompere la gravidanza deve essere assicurato un percorso che diciamo come livello minimo può avere il fatto che si dica puoi farlo in questi posti puoi andare in questi posti ma in teoria dovrebbe essere telefono e ti prendo appuntamento per andare in quei posti perché questo è il percorso grazie Annino e grazie Mirella e Anna adesso Francesca Lanzanova ciao sono a Brescia comunque la mia domanda era avendo forse io già compilato il form se non sbaglio di cui tu parli e avendo conoscenza diretta e avendo assistito e seguito un paio di persone che hanno chiesto il nostro sostegno per poter accedere all'intersezione di gravidanza e scoperto oltre al fatto che conoscevo già il consultorio di Brescia in particolare che non solo quello di Brescia ma anche di provincia hanno davvero una grande efficienza e usano nella maggior parte dei casi se possibile quello farmacologico volevo sapere se poteva essere necessario introdurmi molto più da vicino per chiedere dei dati più chiari per capire se serve un maggior sostegno per quanto riguarda questa cosa io so che le persone che lavorano all'interno di questo consultorio di Brescia sono molto molto disponibili alcune di loro sono anche iscritte all'associazione volevo capire se potevo o era giusto entrare e chiedere una sorta di documentazione se è possibile averla per migliorare e capire al meglio come sono le statistiche almeno nella nostra provincia oltre a tutto quello di cui è stato detto finora che cercherò di divulgare e far capire al meglio Anna sì, una cosa sola perché sicuramente Sara ha meglio il polso della situazione nella regione non credo che in consultorio si faccia l'aborto farmacologico non mi risulta quindi il consultorio è la prima tappa di un percorso che poi porta in ospedale chiedo conferma però a voi che io sappia che io sappia no per ora che io sappia l'unico consultorio che fa questa cosa è quello di Via Pace a Milano Mangiagalli però in realtà è un'ottima domanda grazie di averla fatta perché questo pezzettino qui di chiedere può aver tenso perché magari invece dal punto di vista tecnico si può fare quindi magari il consultorio di Brescia si è organizzato effettivamente lo fa credo che non sia così però allora io mi andrò a rireggere meglio quelle due mail di comunicazione con la persona che ho aiutato ho addirittura chiamato il consultorio che si è reso estremamente disponibile ma mi risulta che il consultorio sono della SST sia in uno che nell'altro caso quindi non sono consultori legati ad associazioni ma sono proprio legati all'ospedale e in uno dei due casi sono quasi sicura che la RU che le hanno dato gliel'abbiano data al consultorio però non voglio dire che lo sono al 100% no no ma guarda grazie mille lo rileggo meglio perché è una cosa che è successa qualche mese fa quindi magari alcuni passaggi li scordo e quindi non voglio darlo per certo ma posso dare per certo che ho un rapporto molto diretto e anche molto bello con il consultorio di Brescia con il quale ho collaborato mandandogli molti adolescenti perché c'è un'apertura molto forte gli adolescenti le adolescenti possono andare senza appuntamento possono parlare chiedere informazioni quindi è un consultorio devo dire che aveva fatto anche un progetto per la scuola che la scuola non ha accettato proprio per migliorare la situazione nella prevenzione e non quindi mi sento di dire che potrei in effetti approcciarmi in modo molto più diretto rispetto a quello che ho fatto fino ad ora in maniera quasi amicale per chiedere una collaborazione rispetto a quello che stiamo cercando di portare avanti sarebbe insomma un bel sostegno Brescia una città comunque con tanti abitanti e sapere come funziona anche nelle aree tra ASST quelle legate al civile piuttosto che quelle legate ad altri ospedali non sarebbe malvagio ecco se posso Francesca grazie mille scusa Mirella ti rispondo solo velocissimo a questo poi dopo lascerò con la te credo che valga la pena proprio di anche strutturare un po' un'indagine eventualmente appunto chiedere in giro quindi posso occuparmene io vai Mirella sì mi ricollego proprio a questo e alla carente introduzione in cui non vi avevo parlato della riunione dell'intergruppo tenete presente che il rilevamento di come vanno le cose si può fare con l'accesso agli atti e le consigliere regionali che hanno partecipato all'intergruppo parlamentare nell'ultima riunione hanno preso l'impegno di fare questo accesso agli atti credo che questo sia importante perché muoversi individualmente e non sul piano diciamo così anche ufficiale anche rispetto alla privacy onestamente perché se venisse da me una cittadina qualunque a chiedermi informazioni sul consultorio certo posso dare informazioni su sulla procedura e tutto quanto ma non sui flussi insomma è meglio privilegiare quello che già esiste come raccolta dati e su questo noi abbiamo la consigliera bocci la quale però non riesce tutti gli anni a ottenere le informazioni e non da tutti e gli accessi agli atti Mirella sai che vanno abbastanza vuoto no loro lo possono fare lo possono fare Paola bocci è una consigliera regionale tutti gli anni ha partecipato anche lei anche lei dice alcuni ospedali mi rispondono altri no alcuni mi dicono una cosa poi la ginecola che lavora dentro mi dice ma è vero a maggior ragione se va il singolo o la singola per quanto dell'associazione coscioni insomma io lo dico come impressione mia insomma bisogna essere molto cauti scovolosi non fare il fai da te insomma no 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 intanto è vero che ho chiesto perché se no probabilmente l'avrei già fatto non era mia intenzione fare un fai da te era che avendo con le persone responsabili di questi di questi due ambulatori chiamiamoli così un rapporto non di confidenza ma di fiducia reciproca anche solo chiedere a chi rivolgermi per poter avere accesso agli atti e poter fare in modo che la SST parlo di Brescia per esempio ci dia la libertà di accedere agli atti per fare una valutazione non mi permetterei mai di chiedere al ginecologo o all'ostetrica di darmi personalmente certe informazioni non mi verrebbe neanche in mente però sicuramente dare una collaborazione e far sapere che hanno anche da parte nostra se hanno una difficoltà come associazione un sostegno perché portiamo avanti questa campagna molto importante credo che non sia cosa da poco ecco questo volevo dire perfetto lo terremo a mente appunto se avvieremo questa campagna di accesso agli atti su una scala più ampia sicuramente farà molto comodo il fatto che tu hai già un contatto intanto grazie da quella Roberta da noi buongiorno intanto grazie per queste due presentazioni perché non sono particolarmente preparata su questo argomento e quindi mi sono state molto utili una domanda per Anna perché ancora non mi è chiara una cosa il motivo per il quale gli ospedali preferiscono diciamo ricorrere alla procedura chirurgica invece che la terapia farmacologica perché in una delle tue slide praticamente dicevi che gli ospedali ritengono che la terapia farmacologica non sia particolarmente sicura per la salute delle donne poi nelle chart successive invece hai fatto vedere come emerge che sia assolutamente una terapia sicura allora per quale motivo dovrebbero sostenere una cosa non vera allora intanto non parlavo di ospedali ma parlavo di regioni perché le regioni dovrebbero darsi un protocollo operativo per la IVG farmacologica non avendo un protocollo operativo regionale per esempio il caso della Lombardia dove Mangiagalli si è presa una responsabilità diciamo di fare quello che è previsto dall'aggiornamento ministeriale ma non tutti hanno questa spina dorsale per prendere iniziative individuali dunque succede spesso che non essendoci un protocollo regionale gli ospedali fanno non dico che preferiscono sempre il chirurgico poi vi spiego perché c'è la preferenza per il chirurgico ma comunque non attivano la procedura ambulatoriale per esempio nei loro ambulatori ma la cosa più grave è che le regioni non attivano la possibilità di offrire il farmacologico a livello territoriale a livello consultoriale perché i consultori devono avere una fornitura dei farmaci da parte delle delle asle delle regioni perché si preferisce il chirurgico intanto ci sono motivi ideologici fa paura una procedura che abbia al suo centro non più il medico non più la struttura ospedaliera ma quello che manco è giusto definire paziente la donna una persona che gestisce da sé e anche se la ricoveri in ospedale in dei hospital la gestisce comunque da sé perché è una cosa per la quale tu non le metti le mani addosso fa tutto lei gestisce tutto lei questa è una cosa che fa paura e fa paura prima di tutto perché guarda che in fondo in fondo quella rivoluzione di cui parlava Mirella è soprattutto una rivoluzione culturale perché ti fa saltare tutti gli equilibri ad un'organizzazione della medicina che è Dr. Sentred che ha il medico al suo centro con l'aborto farmacologico non è più così l'aborto torna nelle mani delle donne e questa è una cosa che fa paura quindi in termini ideologici ci si oppone a questo proprio perché saltano tutti gli equilibri che ci sono stati fino ad ora poi non dimentichiamo che un ospedale piglia 1099 euro anziché prenderne 460 o anziché prenderne 32 ecco perché la cosa deve essere gestita a livello regionale perché è chiaro che l'ospedale se devo occupare un posto letto è meglio che gli frutti 1099 euro piuttosto che fruttargliene 460 per esempio quindi c'è anche un discorso di convenienza economica faccio il chirurgico risolvo tutto velocemente fatico di meno a fare un follow up perché è complesso è faticoso in telemedicina fare un follow up mentre lì ho fatto risolto arrivederci e grazie e ci guadagno il triplo è facile capire la convenienza grazie Paola Stringa ciao a tutti scusatemi ma sono andata e venuta perché sono in un posto dove prende male forse in certi momenti in cui non ero proprio nel mio si sono anche sentite le mie parole scusatemi per quanto riguarda la regione candidabile io in questa sede voglio ricordare che noi in Piemonte abbiamo questa fuffa gigante della stanza dell'ascolto e questa legge molto fumosa e poco chiara che è il fondo vita nascente dove sulla carta dovrebbero essere dati di questi 4.000 euro alle donne che vogliono abortire ma che grazie al contatto di un'associazione pro-life che è sempre sulla carta all'interno del Sant'Anna se questa associazione riesce a farle cambiare idea la tizia cambia idea riceve 4.000 euro e questo è quanto io penso che le regioni teoricamente candidabili siano tanti penso agli anni passati quando si parlava tanto delle marche che erano diventate l'aborto era diventato praticamente inaccessibile penso soprattutto a Lazio quando c'era stato c'erano stati quegli episodi drammatici dei cimiteri dei feti ogni tanto ci provano anche in provincia di Cuneo a tirare fuori i cimiteri dei feti so che su Savigliano c'è una c'è un'associazione pro-life che ci prova continuamente noi abbiamo questo problema grosso che alla fine è solo marketing elettorale da quello che è venuto fuori però i soldi sono stati stanziati visto che questa mattina è stato ha avuto un bel focus la spesa pubblica 32 euro o 450 o 1100 la nostra regione ha stanziato per l'anno scorso 400 mila euro per questo benedetto fondo vita nascente e c'è un milione di euro stanziato per quest'anno un milione per il prossimo ancora non si sa come verranno utilizzati messi in mano a chi secondo che non si sa nulla si sa solo che è uno strumento per poter fare da marketing e fare campagna elettorale sul corpo delle donne come sempre io penso che siano maturi i tempi anche per parlare di questo perché del modello piemonte stanno cercando di esportarlo anche in altre regioni e questo è pericolosissimo specie perché non c'è chiarezza quante cose si possono fare con 400 mila euro pensiamo anche solo all'edilizia scolastica sempre in piemonte ci sono state delle scuole che sono cadute in testa dei ragazzini che non sono più tra di noi e invece ci preoccupiamo di mettere soldi in mano ad associazioni completamente sconosciute e insomma alla fine viene archiviato tutto dicendo vabbè una scatola vuota quando si chiama la praeva si è molto fumosa e va bene così e in ultimo volevo chiedere se invece seguendo un discorso che è stato fatto questa mattina la parte dell'articolo che parla della somministrazione del primo farmaco solo in struttura può essere oggetto di studio per un possibile referendum io non ce l'ho molto chiaro come è strutturato l'articolo però mi ha lasciato questa suggestione qua grazie chi vuole rispondere all'ultima domanda allora Paola l'articolo 8 della legge 194 definisce le figure professionali e le sedi dove deve essere dove può essere praticata l'interruzione di gravidanza quindi l'articolo 8 allora l'articolo 8 ha vari punti che presentano delle criticità il primo punto è la figura professionale perché a livello internazionale ormai moltissimi paesi compreso e su sollecitazione anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno aperto a figure professionali diverse quali sicuramente le ostetriche ma anche infermieri ed infermiere adeguatamente formati ovviamente e quindi questo è un elemento estremamente importante non si vede perché un'ostetrica non potrebbe eseguire un aborto farmacologico ne ha tutte le capacità e tutte le competenze in secondo luogo si definiscono le strutture e qui c'è un problema doppio perché dice che l'aborto può essere praticato solo in una struttura del sistema sanitario una struttura dell'elenco che sta di seguito poi è fatto nell'articolo nell'articolo 8 quindi intanto questa parte dell'articolo è oggetto di discussione perché si pone anche il problema della possibilità per strutture private quindi per le persone di scegliere una struttura privata dove poter fare l'aborto e questo è espressamente vietato dalla legge quindi si tratta di pensare l'abbiamo già messo l'abbiamo già nelle nostre proposte di modifica della legge 194 c'è sicuramente anche una modifica dell'articolo 8 quindi l'abbiamo già pensato ed elaborato però ecco ragionarci insieme perché si concretizzi proprio in una modifica in una proposta di modifica reale è stato rivisto insomma è stato ritirato fuori il libro di Laura Conti il tormento e lo scudo anche lì Laura Conti poneva un nel lontano 1981 alla vigilia del referendum poneva proprio il problema di quell'articolo 8 sulle persone sulle strutture che possono praticare l'interruzione di gravidanza quindi sì l'abbiamo già già vista e concretizziamola in una proposta concreta grazie Anna Paola è la mano di prima? sì è la mano di prima ok Giulia Caradonna da Bari buongiorno in realtà abbiamo chiesto di intervenire in risposto alle domande di Nino quindi approfitto anche per alcune considerazioni la 194 che consente l'obiezione di coscienza consente un'obiezione di coscienza individuale non sicuramente di struttura quindi la struttura e quindi l'intero ospedale che non consente l'interruzione di gravidanza è giusto se ce n'è un altro vicino non necessariamente tutti devono garantire l'aborto questo assolutamente diceva Mirella e concordo ma se vi sono delle strutture che hanno un bacino di utenza molto ampio l'assenza dell'offerta dell'IVG costringerebbe le donne a delle distanze altissime quindi la legge però cita anche la possibilità e secondo me questa va in qualche modo promossa di ricorrere al servizio della motilità quindi si ricorre alla motilità e se una struttura non ha neanche un'obiezione un non obiettore di coscienza si fa in modo e si provvede che questo sia è molto difficile da realizzare e assolutamente anche perché chiunque poi trasferito l'abbiamo anche visto l'abbiamo potuto purtroppo provare anche nei nostri ospedali chi viene trasferito con questo obiettivo può successivamente presentare l'obiezione e quindi nulla di fatto per quanto riguarda invece il secondo punto che era quello della dell'interruzione di gravidanza nel secondo trimestre quindi la questione interruzione terapeutica o quella in cui la donna è costretta a ricorrere nelle settimane più avanzate io non solo dico che non è assolutamente necessario che tutti gli ospedali come diceva Mirella lo garantiscano ma è assolutamente indispensabile che l'ospedale che lo garantisce garantisca anche una zona un luogo assolutamente lontano dai luoghi delle nascite e che quindi tuteli non solo e rispetti non solo la privacy ma anche la condizione in cui la donna non debba trovarsi contemporaneamente nello stesso luogo di degenza dove magari ci sono donne che sono in stato di gravidanza avanzato o che devono partire noi questo lo abbiamo preteso nella nostra regione Puglia io sono Bari quindi al capoluogo e ottenuto almeno in un ospedale che è il principale ospedale di Bari dove abbiamo ottenuto una sezione con ingresso assolutamente separato per cui le pazienti e le donne che devono accedere possono non attraversare i luoghi del parto o della nascita e lo stesso vale anche per chi magari per i parenti o per chi deve venire a trovare quindi io insisterei anche che non solo non tutti sono costretti a fornire e offrire ma almeno il luogo dove viene offerta questa procedura rispetti almeno il diritto della donna a mantenere la sua privacy queste erano le considerazioni fondamentali che volevo esprimere prima Anna poi Mirella allora io vorrei sottolineare una cosa che i problemi che nascono dall'alta percentuale di obiettori di coscienza non si risolvono ma secondo me neanche si affrontano con quello che dice c'è la legge c'è la mobilità scusate non la mobilità la mobilità del personale perché l'hai già detto tu chiaramente quello una volta che è strippato fa obiezione perché non si può penalizzare chi non è obiettore addirittura facendogli fare le tournée da un ospedale all'altro da una regione all'altra il problema non è non si risolve così si risolve con la territorializzazione non possiamo pensare di risolverlo mantenendo la mentalità ospedaliera deve essere deospedalizzato l'aborto l'aborto deve essere calato nelle realtà temporali ma lei parlava del secondo trimestre no dopo ho parlato del secondo trimestre prima parlava delle strutture che hanno il 100% degli obiettori e via dicendo quindi per quanto riguarda la prima parte del tuo discorso nel primo trimestre bisogna chiedere che si faccia in consultorio questa è la modalità di affrontare il problema dell'obiezione di coscienza sul secondo trimestre questa diciamo sensibilità si mantiene si ha in tanti ospedali alcune strutture non hanno la possibilità ma proprio per questo io credo che invece gli aborti del secondo trimestre debbano essere concentrati in strutture che possano garantire questo una donna che deve fare un aborto del secondo trimestre fa anche 70 km se sa che è accolta in una struttura che le garantisce non solo la privacy non solo la riservatezza ma che le garantisce anche standard moderni e sicuri io credo che questa sia la cosa più importante grazie Iole mi sentite? sì allora intanto volevo ringraziare per questo incontro e per le spiegazioni e le slide di Mirella e Anna che sono sempre molto precise e mi aprono un mondo che pensavo di conoscere invece ignoro totalmente ignoro totalmente anche perché come cellula di Bologna noi ci siamo ricostituiti e ci siamo focalizzati in questi due anni sul fine vita e anche dopo la mia partecipazione agli stati cellulari vorremmo un po' come dire diversificare gli argomenti però quello che vorrei capire anche perché mi sono collegata non subito è oltre cosa dobbiamo fare noi come cellule cioè al di là della compilazione del form che in qualche modo ci chiede di comunicarvi quali se ho capito bene quali associazioni o che contatti potremmo avere sul territorio oltre a questo poi che cosa dobbiamo fare cioè ripeto noi siamo totalmente digiuni da questo tipo di esperienza quindi mi piacerebbe se questo è il primo passo e ci saranno poi delle riunioni di aggiornamento su cosa fare in seguito va bene ne prendo atto viceversa mi piacerebbe per esempio capire che cosa ha fatto la Lombardia che cosa ha fatto Sara Martelli e come proprio ha cominciato nel senso che noi ci troviamo spesso nella difficoltà di capire almeno io personalmente che cosa faccio concretamente cioè domani mattina lunedì che cosa comincio a fare chi contatto che cosa che cosa dico alla mia cellula ai miei volontari e come posso procedere come ci attiviamo questo in sintesi grazie Anna no io solo per dire che in realtà la regione Emilia Romagna probabilmente è indirittura d'arrivo per fare un protocollo regionale per l'IVG ambulatoriale ed ha previsto tutta una serie di consultori dovrebbero essere 18 entro il 2024 che metteranno in pratica il regime ambulatoriale con autosomministrazione del misoprostolo sono davvero ho fatto varie riunioni con loro sono davvero in procedura di arrivo spero che insomma sarà pubblicato il protocollo a brevissimo questo per dire come c'è poi una enorme differenza tra le regioni per cui pensare ad una modalità unica non ha senso ecco perché all'interno di ciascuna regione e tra le cellule si devono individuare le criticità territoriali e a quel punto si può discutere come affrontarle e con quali sistemi si può andare davanti ai consultori a raccogliere le firme si può fare il volontinaggio e sensibilizzare le persone si può fare una mozione a livello regionale sono tante cose che però dipendono molto dalla realtà territoriale Sara credo che forse sia stata chi poi ti rispondo rispondo io certo capiamo che ovviamente ognuno di voi deve avere un po' di strumenti nelle mani e anche indicazioni un po' più dall'alto e ovviamente lo faremo adesso facciamo partire tutto vi spieghiamo quali sono le basi diciamo su cui far partire le iniziative e poi sarete seguite seguiti su come procedere poi in base alle esigenze ragione Anna ognuno ha una situazione completamente diversa non possiamo dare una ricetta per tutti sarebbe fuori fuoco però assolutamente faremo un modo di darvi un po' di idee così che vanno bene per tutti e tutti e poi qualcuna che è legata alle situazioni territoriali ci aggiorniamo dateci un po' di tempo per organizzarci adesso Giada ha mandato la richiesta di contatti di modulo insomma scontatti c'è disponibilità proprio per questo per creare un gruppo di lavoro su cui poi si basa tutto il lavoro da adesso in poi Sì alla fine del modulo c'è una parte in cui si parla di contatto telefonico quindi magari sarebbe utile inserire il contatto telefonico del referente che avrete individuato della cellula sul tema oltre a questo sì diciamo che il prossimo passo utile sarebbe proprio quello di individuare qualcuno perlomeno all'interno della cellula che si vuole occupare di questa di questa specificazione e poi ovviamente da lì individueremo anche magari un responsabile regionale che ordini un po' tutta l'attività queste cose credo che siano proprio alla base dell'azione Mirella Sì io volevo ringraziare tutti vedo che molti devono lasciare in effetti mi avvierei a concludere però vorrei raccogliere la riflessione di Paola Stringa sul referendum anche se è fuori tema perché stiamo parlando delle iniziative diciamo più più territoriali ma relativamente perché poi una campagna referendaria gioco forza coinvolge anche le realtà però volevo dire questo i punti su cui la legge 194 andrebbe rivista sono tanti secondo noi li trovate elencati nel materiale che sta sul sito a proposito delle nostre proposte ma volevo cogliere la domanda di Giulia di Bari rispetto al secondo trimestre perché è inaudito che in Italia si debba andare all'estero in caso di possibile viabilità si dice del feto cioè di vita autonoma del feto e quindi noi anche come associazione Luca Coscioni ma con Anna e con i medici di Amica da anni e da decenni ormai passiamo il tempo a dare gli indirizzi all'estero di dove queste donne possono andare sollecitati spesso dai nostri colleghi anche obiettori di coscienza che quando c'è l'aborto buono l'aborto buono è quello in caso del secondo trimestre di una gravidanza desiderata che però purtroppo presenta delle patologie fetali quindi se io proprio dovessi fare una campagna referendaria metterei diversi punti non solo l'articolo 8 ma sicuramente gli articoli 6 e 7 andrebbero modificati ma grazie a Paola perché questa riflessione è troppo impegnativa e fuori tema in questo contesto ma è appassionante perché ci abbiamo già sbattuto la testa voi non eravate nate alcune di voi e ci abbiamo sbattuto la testa anche soprattutto per colpa di quelli che erano favorevoli alla 194 ma secondo il noto slogan la 194 non si tocca ricordiamoci che ci andremo a riscontrare con con questo tipo di estremamente diffuso anche se un pochino meno di prima grazie a tutte grazie che ci sono le difficoltà vengono obbligate anche con il convenzionamento di strutture private le quali però fanno fondamentalmente il ricovero fanno la procedura chirurgica perché altrimenti non sono rimborsate dal sistema sanitario nazionale torniamo allo stesso ragionamento c'è anche un problema di ordine economico delle singole strutture per le quali appunto conviene richiedere laddove c'è l'interesse ovviamente di un rimborso più consistente allora io sì ti risolvo il problema però lo faccio non sulla base della tua esigenza di salute ma anche sulla base di una mia convenienza questo è un elemento che secondo me può essere assolutamente eliminato io credo che da qui al congresso possiamo avere un tempo di diciamo di posa e di ragionamento sulle cose che ci siamo dette sicuramente verranno fuori altre domande altri interrogativi necessità di confrontarci su altre cose io penso che se facciamo da subito una mailing list possiamo magari anche pensare a un un incontro una modalità di diciamo rifare il punto della situazione a breve in modo che subito dopo il congresso possiamo cominciare davvero a concretizzare delle iniziative a livello territoriale e basta secondo me questa è davvero la cosa la cosa importante che traduciamo in pratica e in azione tutte le cose che ci siamo dette oggi perfetto grazie Anna grazie Mirella grazie a tutte voi chiedevano nella chat per le slide ci pensi tu no il prossimo step vi mando la registrazione della riunione le slide di Anna e Mirella e di nuovo il link al form che sarà importantissimo proprio in quest'ottica di appunto andare nel pratico e nell'agire pratico e penso ormai sì lunedì quindi lunedì avrete tutto grazie mille grazie a tutte a tutti grazie ci vediamo al congresso ciao ciao ci vediamo